Dai depositi del Palazzo Reale di Napoli alle sale del Castello Svevo di Trani ci rimarrà tre anni nelle case matte al secondo piano la collezione della regina Margherita di Savoia, opere da lei acquistate, ventaglio delle scelte artistiche della casa Sabauda tra il XIX e il XX secolo. La direzione generale dei musei ci ha creduto da subito con il supporto del Ministero della Cultura, ha studiato il progetto Cento opere tornano a casa. L'idea è portare alla luce quelle custodite e nascoste per valorizzare il patrimonio artistico dell'Italia. Un progetto che in Puglia trae impulso dai collegamenti tra il territorio e la regina consorte di Umberto I a cui la città di Margherita di Savoia, Giassaline di Barletta, dedicò il nuovo toponimo a partire dal 1879. Una bella collezione che non aveva mai visto la luce, tra l'altro legata a una figura di rilievo come Margherita di Savoia. Non dimentichiamoci tra l'altro che qui vicino c'è una città che porta il nome della regina. Mi sembrava questo il luogo ideale per presentare per la prima volta un'interessante collezione che era nei depositi. L'arte va fruita? Assolutamente, secondo me non c'è tutela, non ha senso la tutela se non c'è anche la fruizione e la valorizzazione. Per noi è importantissimo questo patrimonio trasmetterlo alle prossime generazioni, ma le nostre la deve ne deve godere e l'arte deve essere goduta da tutti.